La neve è scesa nel fine settimana e ha dato nuova linfa alla stagione bianca della Betone. In tanti ne hanno approfittato salendo sino alla vetta dell'Appennino Pistoiese per praticare sport invernali. Il bollettino documenta 60 cm di neve compatta in quota, un bel sole e visibilità ottima. Una nevicata non troppo abbondante, che comunque è soddisfacente, copre tutte le piste e pertanto c'è una neve meravigliosa, il tempo è veramente eccezionale. Chi vuole sciare sfrutti le ultime giornate belle perché sicuramente si divertirà. È possibile fare anche un primo bilancio di questa stagione? Tutto sommato, anche se abbiamo durato fatica a gestire la stazione, però tutto sommato si può definire un bilancio positivo, migliore dell'anno scorso che è stato tragico l'anno scorso, che però ci siamo difesi, abbiamo fatto tanta neve programmata e pertanto abbiamo reso le piste sciabili.